Forbetti del web, così possiamo definire le 20 persone denunciate questa mattina dalla Guardia di Finanza di Torino nel corso di una vasta operazione che ha coinvolto tutta Italia. Approfittando della situazione critica avvenutasi a creare in questi giorni con i primi casi di contagio nel paese del coronavirus, i maldestri commercianti hanno subito trovato sistema per vendere centinaia di dispositivi di protezione individuale a prezzi di poco esorbitanti. Non solo il prezzo maggiorato di smisura rispetto al valore corrente di mercato, ma anche il richiamo a claims che indicano una protezione totale dal Covid-19. Hanno fatto sì che in pochi giorni questo fenomeno fraudolento si estendesse a macchia d'olio. Basti pensare che si è arrivati a porre in vendita maschere e filtranti a oltre 5.000 euro al pezzo. I finanziari del gruppo Pronto Impiego di Torino, coordinati dal dottor Alessandro Aghemo della Procura della Repubblica del Capoluogo Piemontese, in breve tempo sono riusciti a identificare 20 soggetti responsabili del reato di frodo in commercio. Rischiano fino a due anni di reclusione. Sono in corso queste ore numerose perquisizioni in Liguria, Lombardia, Marche, Campania e Calabria. I baschi verdi torinesi, insieme ai loro colleghi per il resto della penisola, stanno sequestrando migliaia di mascherine, purificatori per ambiente, visiere, addirittura copri-vc e articoli destinate alla protezione delle vie respiratorie, stroncando così sul nascere manovre speculative, fenomeni distorsivi del mercato. Negli ultimi giorni, complice dell'allarme coronavirus, è sempre più frequente trovare per strada persone che indossano una mascherina per proteggere il naso e bocca. Negli ultimi giorni, complice dell'allarme coronavirus, è sempre più frequente trovare per strada persone che indossano una mascherina per proteggere il naso e bocca.